E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Dopo una vita sono tornato a fare qualche tutorial Perché praticamente tempo fa su una live del signor Tacchino E' entrata in discussione un ragazzo sul fatto che il laser serve a qualcosa Io feci già tempo fa dei test e sostanzialmente il laser serve a qualcosa Non è una cosa giusta per il player per capire meglio dove sta mirando Ma è proprio una cosa fisica che serve nel gioco Ora andrò a fare diversi test Vediamo se riesco a farlo con tutte le armi Cercherò di farlo con tutte E praticamente farò sia fuoco singolo con e senza mirino E sia in full auto Quindi intanto si inizia con il signor Fall Quindi il signor singolo E facciamo subito con il laser Qui ho preso più o meno la distanza da questa linea E vediamo Allora sostanzialmente questo è il suo cerchietto Mentre se io ora mi sposto più a sinistra e tolgo il mirino Proviamo con Quindi come si vede già con il laser va tutto dove punta il laser Mentre qua fa un cerchio un po' più grande sostanzialmente Adesso proviamo in full auto Magari mi sposto un po' più sulla sinistra Con il mirino laser Non tocco niente Cioè non tengo lo spray Io clicco e dove va va Ottimo ho finito i colpi Dove va va Sostanzialmente dovevo portare un caricatore in più Però Qui sono andato su e mi avrebbe tenuto sopra E forse mi avrebbe fatto anche uno spray più merdoso Invece qua con il laser è rimasto sempre lì al centro dove puntava più o meno poco sopra Perché io comunque mentre sparavo il laser era tipo Tipo qua E lui mi ha fatto tutta questa parte Quindi Già con il fall Qui siamo messi bene Adesso si prova con l'M4 Sempre in singolo Qualche colpo Dove Con il laser Posso fare più sulla destra Quindi come si può vedere Con il mirino laser rimane Dove punta Mentre senza il mirino laser fa tipo un Uno smile Adesso invece Provo un po' In full auto Questo è lo spray senza Tenere quindi tutto Come va va Con Senza il laser Mentre questo è con il laser Adesso Adesso testo Con il signore MPX In single fire Senza laser Ok io Punto lì con il laser Quindi Questo E' sparare con il laser E questo è senza laser In singolo Adesso si va in Sull'auto Sull'auto con il laser Quindi anche con l'MPX Vediamo Che il laser serve Sostanzialmente Adesso con la K74M Adesso con la K74M In singolo Quindi già vediamo Che come sempre Con il laser Rimangono lì Mentre Con Senza laser Tende Vedete Vedete che Già l'arma si muove Tende quindi Ad andare un po' A Katsum Ora si prova in Full auto Ovviamente Sempre senza Tenere lo spray Tire un po' Più in basso Quindi come possiamo vedere Da entrambe le sprayate Anche con i 74M Il laser serve A qualcosa Scusate il sangue Sullo schermo Il parkour Non fa per me Comunque Allora Visto che tanto Con tutte le armi Non riesco E sarebbe Inutile Perché più o meno Il funzionamento È quello Adesso andremo A fare con Cecchino Quindi Mosin Pistola Shrimp Mitraglietta MP7 E Un plus Che è la capino Visto che più o meno C'ha il rinculo Di Gesù Bambino E quindi È ottimo Per provarlo Allora Faremo un test Quindi diversi colpi Col Mosin Io non Insomma Non riposizionerò niente Continuerò a cliccare Fino a che lui Non spare Non finisce i colpi Quindi la prima Volta Lo farò Con il laser Sì Allora quindi anche con il mod essenzialmente serve qui è continuando a cliccare all'infinito fino a che non finisco i colpi con il laser e questo è senza adesso andrò a farlo con la shrimp farò un testa che sparerò piano con il laser e poi veloce insomma fatto con il laser e senza piano lo farò un po' più veloce quindi vado di laser quindi sostanzialmente piano con il laser senza laser e questo è forte con il laser forte senza laser è arrivato il momento dell'MP7 quindi in singolo con il laser senza adesso vado in full auto grazie signor statter per essere sempre qui con noi che ci ricordi che ci sei pure te quindi sostanzialmente questo è piano con il laser questo è piano senza laser e questo è veloce in entrambi i modi laser non laser quindi sostanzialmente l'MP7 tiene sempre nello stesso modo allora a capino piano single fire alla prossima la prossima la prossima Quindi HP singolo con il laser Questi due sono full auto con il laser e questo è senza Quindi sostanzialmente le armi in full auto con il laser si vede che mantiene comunque una bassezza diciamo di quando spara Mentre quelle senza laser tiene a rimanere più in alto Quindi niente ho testato con tutte le armi sostanzialmente Quindi abbiamo fatto il fall Abbiamo fatto l'M4 Abbiamo fatto un AK74M Abbiamo fatto un MPX HP MP7 Mosin E shrimp Quindi abbiamo ricoperto più o meno tutto Non ho fatto l'SKS perché comunque sostanzialmente l'SKS è single fire E se i single fire funzionano in questo modo funziona pure per esso Però sostanzialmente questa è una prova che il laser serve Praticamente l'unica in cui non è servito nel full auto è stato un po' l'MP7 Che è questo qua Quindi diciamo che con l'MP7 senza laser è quasi uguale Forse sembrava meglio anche senza il laser Quindi niente se volete fate anche voi delle prove Magari continuate i test con altre armi Ma comunque io l'ho già fatto con tante altre Io l'ho fatto giusto con quelle che avevo Perché sono sostanzialmente quelle sono tutte le armi che ho Sono pieno di quelle Quindi niente Fatemi sapere se vi è servito questo video Spero che adesso iniziate ad utilizzare un po' i laser anche voi Perché io insomma Ogni volta che l'ho usato mi ha sempre salvato la vita Proprio perché i colpi vanno più precisi E quindi non è una cosa per il giocatore Che dici ok i colpi Insomma io sto mirando lì Vanno lì Ma proprio perché anche il gioco Anche il player in sé Dentro il nostro PMC Use cober che sia In funzione del cervelletto E dice ah cazzo Allora posso sparare meglio con il laser Quindi niente Spero vi sia stato utile questo video Noi ci vediamo in un prossimo E alla prossima Ciao ciao